Sì, è stata una bella partita, ci siamo confrontati con una squadra molto forte, loro stavano benissimo a livello atletico, magari noi un po' meno brillanti, però abbiamo fatto la nostra partita. Sei riusciti a pareggiare con Leo, sono palinattiva, ma credo che nel complesso abbiamo fatto un'ottima gara. Non perdere fa bene, però il discorso è che comunque non abbiamo fatto queste amichevoli per prepararci al meglio campionato, dobbiamo pensare lì, da subito e niente, comunque fa sempre comodo, è piacere vincere, fa morale e comunque da sempre una mano. Il mister quando mi ha messo in campo ha cercato di sempre dare il massimo, poi è riuscito a fare qualche gol, ma non è quello l'importante. L'importante è comunque dare il massimo per la squadra, farsi trovare sempre pronti e appunto vincere. Sicuramente con il modulo del 4-4-2 mi fa far l'esterno e comunque mi chiede, mi dà tantissimi consigli, se è un po' più stretto, se è un po' più largo, il momento in cui muovermi, io essendo una mezzala ho sempre fatto una mezzala, quindi mi dà una mano, però credo di far bene e comunque lui quando c'è da strigliarmi mi striglia, quando c'è da farmi complimenti mi li fa. Lì si inizia veramente sul serio, bisogna portare a casa il risultato, bisogna iniziare appunto a continuare a vincere, a dare continuità alle nostre vittorie dal pre-campionato fino magari a Coppa Italia e poi il campionato.